Anche piano invece, ha sbagliato il nerone del vento e c'è letto in partenza con la rottura di Olimpo del Nord mentre si lanciano in avanti One Push e Moonlight Boss alle prese con lo scatto però di Lachitu che dalla estremità della seconda fila passa a condurre in 300 metri, gran partenza di Lachitu che è il leader, nonostante il numero peggiore, di Diva dopo 400 metri, completandoli in 30 appena abbondante qualifica che soglia anche Monella di Re, tanto c'è la progressione di Nureshi dopo 500 metri di gara Nureshi si porta sulla titolo e tiene strada. Nureshi nuovo leader mentre all'esterno avanza anche Osanna Jett Zanna Jett va a fiancare One Piece in terza posizione, senta la progressione anche Olsen Tanks ma è in terza colfio lontano ancora dalla testa. E intanto gli 800 se ne vanno con Nureshi libero. 1-1-4 il passaggio delle metri di Lachitu in seconda posizione, cavalli che si avvicinano al chilometro sempre condetti da Nureshi, poi Lachitu che acciona a spostare all'esterno dopo 1000 metri in 1-16-7 Nureshi ha prescita One Piece per guadagnare una posizione all'interno sull'allargamento di Lachitu. Nureshi in vantaggio quando siamo all'attacco della curva conclusiva, partiale in 15 secco, Nureshi all'esterno infilato da One Piece. Page istrione a Rex, Nureshi al comando all'ingresso in dirittura d'arrivo sposta a One Piece. ultimi 150 metri di gara con Nureshi che aveva solo richiesto per difendersi da One Piece che attacca e nel finale si avvantaggia. One Piece passa e riusce a concludere vitorioso nei confronti di l'arabo e di il prione Rex.